Nel 2023 le famiglie spenderanno per abitazione, elettricità e altre utenze in media più di 1.300 euro al mese, oltre 400 euro in più rispetto al 2019. A stimarle la Confesercenti sono a base di un'analisi condotta sulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie negli ultimi quattro anni. Complessivamente quest'anno le famiglie italiane spenderanno in media 2.846 euro al mese, una crescita però non dovuta all'aumento dei consumi ma interamente all'inflazione energetica, tagliate le spese su abbigliamento, trasporti, cultura e ristorazione. Grazie a tutti!